Un saluto a tutti voi massicci, move up, move up your body, people ready to jam in, enjoy yourself and dance now, in original talento party, Arcoiris TV, bruciamoi acqua e quello papaleo, pam! Siamo qua con il DJ del gruppo Sud Sound System e volevamo chiedergli insomma che tipo di rapporto ha lui con questo gruppo musicale e che tipo di rapporto ha lui con la musica in generale, quindi quali sono i suoi progetti futuri indipendentemente dai Sud Sound System. Bene, buonasera, io sono papaleo, vengo dal Salento, il DJ dei Sud Sound System, chitarrista di Baga Rhythm Band, la band ufficiale del Sud Sound System, ci ispiriamo fondamentalmente al Sud Sound System come gruppo Adriatic Sound, siamo io e Ran Chillele da Trepuzzi, un paese nel Salento, Stiamo producendo un disco intitolato move up, uscirà a maggio, una produzione in collaborazione con i Sud Sound System, etichetta Salento Sound System e diciamo è un progetto ispirato alla musica popolare, alla musica popolare c'è la musica del popolo, ispirata ai canti antichi del Salento, infatti c'è un rifacimento di una canzone tradizionale salentina e poi tante altre interpretazioni della musica regga e della musica salentina. L'appuntamento con noi Adriatic Sound è per fine maggio una produzione di Sud Sound System, Ran Chillele e Papaleo Adriatic Sound, un saluto a tutti i mastici di Arco Iris. Un'altra breve domanda se possibile, che tipo di differenza c'è tra la tua musica e una musica come quella della Taranta per esempio che ultimamente si fa sentire molto ed è insomma un prodotto tipico del Salento che in un certo senso funge da concorrenza rispetto ad altri gruppi salentini che ultimamente si fanno sentire parecchio insomma. Quindi qual è il tuo punto di forza rispetto a una musica come quella della Taranta? Sì, con la notte della Taranta è stata scoperta la tradizione popolare salentina della musica appunto popolare della Tarantella, della Taranta, della Pizzica. Per noi è stata la musica del Sud Sound System che da vent'anni fa parte del bagaglio culturale di ogni ragazzino del Salento, di ogni ragazza del Salento. Il Sud Sound System fa parte, quindi come tanti gruppi si esprimono con la musica popolare, la musica tradizionale, la Pizzica salentina, noi la nuova generazione ci esprimiamo con le parole, con il messaggio che da sempre ha portato il Sud Sound System nel Salento. Quindi non c'è nessuna concorrenza, è una collaborazione della musica salentina e della musica in genere, non solo reggae, tutta la musica fa star bene la gente. Grazie. Grazie.